E così mio fratello è stato ucciso Bene Allora avrò la mia vendetta Su chi dovere E so che nessuno se lo aspetta Ciao a tutti pagliacci e pagliacci Qui è il mio gozzo E bentornati in questo nuovo video Della serie fantastica Fantasmagorica Vita reale da bambino Con il nostro unico e inimitabile Ronaldo Junior Allora le cose mi preoccupano All'inizio della intro avete sentito Qualcosa che forse non avreste dovuto sentire Forse molti di voi Già lo hanno capito dal titolo E hanno capito chi era che stava parlando All'inizio della intro Quindi sicuramente preparatevi Che arriveranno dopo questo video Una serie di episodi abbastanza fighi Venite sul canale perché questa settimana sarà Veramente bella Allora io intanto vi dico Avrete già immaginato Che cosa succederà in questo video Quindi mi raccomando ragazzi Un bel pollicione in su per iniziare il video E iscrivetevi al mio canale Guardate il video fino alla fine Per scoprire chi rapisce Ronaldo Junior Il perché e come E le reazioni degli altri E soprattutto guardate il video fino alla fine Perché alla fine saluto 5 di voi Le ultime 5 notifiche di Instagram Quindi mi raccomando Che lo trovate anche qui in descrizione Che alla fine vi saluto Bene ragazzi Benvenuti su questo nuovo episodio A bomba Stiamo andando Sbagliato strada Prima di tutto Scusate Adesso grazie Stiamo andando al parco A giocare con gli amici Della gang Se Perché ragazzi oggi Ho preso la giornata libera Cioè nel senso la giornata libera Siccome oggi non andiamo a scuola Perché è festa a Los Santos Abbiamo detto che ci saremmo incontrati Tutti quanti al parco Per stare diciamo Tutta la giornata insieme Infatti ragazzi Sono lì Adesso parcheggio la macchina Quindi sicuramente Faremo tanti giochi interattivi Non lo so Come i bambini Yeah No ragazzi Se mi sente E una riunione tra amici Giocheremo tutto il giorno Ho detto a Jasmine Jasmine Sono finanzato con una donna Più grande di me Di 20 anni Però ragazzi Sono pur sempre un bambino E anche io ho bisogno di divertirmi No Su questo sarete sicuramente d'accordo Schere Vai Ronaldo Junior Ragazzi Chissà oggi Quanti giochi faremo Giocheremo a palla Giocheremo a nascondino Giocheremo alla palla avvelenata Giocheremo a tutto praticamente Bene I nostri amici sono qui Vediamo un po' Ci sono tutti Ci sta Albert Ci sta Francis Ci sta Sara Ci stanno tutti Quanti No Quella è Francesca Mi confondo sempre Ragazzi Madonna Perché Quella è la sorella Allora Ciao Francis Bella zi Bella frase È il mio amico nero preferito Non solo uno Quindi per forza lui Il mio preferito Allora Stanno un po' discutendo qui Oh Albert Alex Che sta succedendo qui Stanno parlando un po' Che uno vuole giocare a palla avvelenata All'altro vuole giocare a nascondino L'abbiamo mai fatto a nascondino Regà L'abbiamo mai fatto a nascondino Sul canale Ci starebbe Dai Ditevelo nei commenti Se avete un episodio Speciale Con Ronaldo E Ronaldo Junior Che gioca a nascondino E Ronaldo Junior Fa sclerare Ronaldo Beh dai Ci sta come cosa Perché un conto è con gli amici Che si fa per giocare Un conto è farlo con papà Che si fa per farlo sclerare Quindi Oh dai regà Io gioco Io voto per nascondaino Nascondaino Oh no Io goto le barzelletta Allora Dino Dice all'altro Dino Giochiamo a nascondino L'altro dice Dino Però potete ridere Merde A meno ragazzi Voi ridete Loro non hanno riso Perché stanno discutendo Però Per favore Voi ridete Oh io che giocare a nascondino Regà Che abbiamo Che abbiamo deciso Kumpà Qua che giocare a nascondino So io il mafioso Decido io Hai capito No poverino Povero Alex Scusa bro Minchia ti ho sporcato Tutti i vestiti Mi dispiace Dai Giochiamo a nascondino Fa Albert Mi iniziare tu a contare Non è un problema No Ok dai Inizia tu Dai va bene Inizia Albert A contare Ci nascondiamo Da veri gang Della mafia Ok ragazzi Voi non ci crederete Siamo Io sono arrivato qui Che erano più o meno Le due e mezza Tra me un quarto Il pomeriggio Sono le 19 e 20 Abbiamo giocato a nascondino Per non so quanto tempo Ragazzi Questa nascosta Sì vabbè Io me ne vado più dietro Sennò poi ci trovano tutti Ragazzi Stiamo giocando Da un botto di tempo Stiamo da ore praticamente Bella francella Mi nascondo qui con te Schere Oh scusa No scusa zia Nasconditi scema No Qua Insomma ragazzi Stiamo giocando Da un bel po' di tempo E più o meno Ci siamo Abbiamo giocato un po' tutti A fare la racconto Ora sta recontando Di nuovo Albert Perché povrino Ti piace contare Non capisco perché Spero che Non ci trovi Perché Se ci trova Poi Sarà Sarà un bel casino Senti Francesca Fai così Tu vai più avanti Così Se trova voi tre Io faccio il giro E faccio salvo tutti Insomma ragazzi Non devo stare a spiegare Le regole di nascondino Sono facilissime Francesca sta dicendo Che per lei non c'è problema Insomma sapete già Come si gioca il nascondino No quindi Non devo stare a spiegare L'avete fatto tutti Ok Vediamo un po' se arriva No vai Francesca Puoi andare Puoi andare Vai 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 Cioè ragazzi Si è praticamente Albert Viene qui Li sgama tutti a tre Che stanno lì Belli belli tranquilli Ci sta Francis Francesca e Alex Mentre lì sta suo fratello Dietro così Proprio immobile Vabbè Comunque Aspettiamo che li sgamano Così noi andiamo Da qua dietro Facciamo salvo tutti E spacchiamo tutto Quanto di nuovo Quindi stiamo Oh no Rado giugno Stai bello nascosto Stai bello nascosto Ok Aspettiamo Oh ce la fai a stare steso Porca miseria Dai Così Voglio mettere in atto Il mio piano E so che nessuno Mi fermerà ragazzi Ve lo posso garantire Chi è questo personaggio Misterioso Ragazzi Chi è Lo scopriremo sicuramente A breve Quindi Ragazzi Si prospetta qualcosa Di bello Bene Dalle informazioni Che sono riuscito A raccogliere La persona Il soggetto dovrebbe trovarsi Qui In questo parco Da qualche parte Ora vediamo un po' Di indagare Di cercarlo E vediamo un po' Se riusciamo a trovarlo Intanto Hai portato Il nostro aggeggio Vero zio? Mariganetto Ce l'abbiamo Oddio Cosa vuol fare Questa persona qui Con questo coso Vabbè Ora lo vedremo Penso che sia arrivato ormai L'ora di dirvi Chi è questa persona qui Ragazzi Perché ormai Lo avrete capito Quindi sicuramente Anche dal titolo È lui Il fratello di Trevor Wow Oh mio dio Come il fratello di Trevor OMG Non me lo aspettavo XT Ma proprio lui Eccezionale Sì ragazzi È tornato Maglio è tornato È sempre Trevor Però con una faccia diversa È suo fratello Bene Il ragazzino Dovrebbe corrispondere Era la descrizione Che sono riuscito a raccogliere Quindi non mi resta Altro che stordirlo E portarlo Nel posto segreto E poterlo rapire Così neanche Se ne accorgerà Poverino Non se ne è accorto di me Dai stordiscilo Prima che si gira Ok Dite che basta Bene ragazzi Il suddetto ragazzino È svenuto A quanto pare Ha perso un po' di sangue Ma questo non mi interessa Dato che è un ostaggio Per la portata principale A quanto pare Nessuno si è accorto di nulla Meglio così Ora devo portarlo via Metterlo in macchina Portarlo via In qualche modo Intanto prendiamolo Aiutiamolo E portiamolo in macchina Bene A quanto pare Nessuno si è accorto di nulla E nessuno si è ancora accorto Che un ragazzino è scomparso Ma giustamente Sarà al parco con i suoi amici E poverino Nel copolo Non lo sentirà nessuno A meno che non lo libero E non lo porterò Finché Dove andremo adesso Quando troveranno Diranno che Il piccolo ragazzino È scomparso Ragazzi Sarà troppo tardi Perché Il fratello di Trevor Lo porterà In un posto Molto familiare A noi Che Non so come Ma è di proprietà Era di proprietà Di Trevor E dopo la sua morte Ben sapete Ho scoperto Cioè Mi avevano tenuto Nascosta La morte Di mio fratello Michael De Santa Franklin E gli altri La pagheranno Anche loro ragazzi A loro dire Ragazzi Forse Trevor Non sapeva Che un fratello pazzo S'è pensato Peggio di lui Nessuno lo sapeva Ma forse Raga Michael non lo sa E forse Questo è il problema Tutto ciò Michael non lo sa Ragazzi Quindi forse Michael non sa niente E non gli avrebbe Sicuramente permesso E che comunque Loro sono amici In affari Da anni ormai Sicuramente Questo posto Lo ricorderete tutti Anche nella storia Di GTA Perché è stata La fantastica Torture room La stanza delle torture Del grande Trevor Che Ora userò Anche io Perché Dopo Che mio fratello è morto Senza che nessuno Mi ha detto niente Quindi ragazzi Pensate quanto posso essere Incattato il fratello di Trevor Che poverino Non sapeva nulla Di tutto ciò Proprio nulla Oh Bene A quanto poi Il nostro principino Si è svegliato Eh Si è svegliato Oh Ma guarda un po' Ti stai chiedendo Dove sei Vero? Ti stai chiedendo Perché non sei Con i tuoi amici A giocare Alli farfalline Che ragazzi Sono impazzito Anche io In personificare Fratello di Trevor Ti stai chiedendo Chi sono io Avrei le spiegazioni Quando sarà Principino So che non ti riesce A muovere Ti è dato molto sedativo Quindi tranquillo Di qui Non ti potrai muovere Senza il mio consenso E tranquillo Non ho intenzione Di picchiarti Per ora Quindi Rimarrai qui Tranquillo Buon soggiorno piccolo Ci vediamo domani Poverino So come Ma sono stato rapito Mi trovo In mezzo A questa stanza Che tra l'altro Mi è familiare Ronaldo Junior Ti è familiare Raga ho la mente Un po' Fuscata Perché sinceramente Mi gira la testa Sono stato rapito Non sto capendo niente E sono stato Tra l'altro Sedato Sedato Quindi Non sto capendo niente C'ho questa luce Sparata in faccia Che mi dà Fastidio agli occhi Insomma ragazzi Povero Ronaldo Junior Giustamente Non sta capendo niente Dove si trova Sembra un garage Non ne ho idea ragazzi Di che cosa Posta sia Ronaldo Junior È serie difficoltà Fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Quindi Mi raccomando Piazzate un bel pollicione in su Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Andate e attivate La campanella Delle notifiche Per non perdervi Nessun video Vi ricordo che in descrizione Trate le mie maglie ufficiali In edizione limitata E anche quella di Ronaldo Junior Quindi Ragazzi Poverino Aiutatelo a uscire di qui dentro Comprando le sue maglie Quindi Prima di lasciarvi Voglio salutare Le ultime 5 notifiche Di Instagram Saluto Mattioli Daniele 1 Saluto Cese Mazza Saluto Gabriel Caraccio Saluto Black Nico 02 E saluto G Giuseppe 75 Quindi ciao a tutti e 5 ragazzi Sempre alla grande Se anche voi avete stato salutati A fine video come loro Trovate il mio Instagram Qui E in descrizione Quindi mettemi a cercare Real Anthony E potrete essere salutati Nei miei prossimi video E vedere anche I prossimi spoiler Quindi vi aspetto Davvero pena questa scena Quei mei Goz ragazzi Vedete tutto da voi E ci becchiamo Al prossimo video Ciao